Buonasera e benvenuti ad un recap ciclico sulla giornata di oggi con l'analisi ciclica evoluta. Allora, cosa è successo? Prima di tutto abbiamo fatto una potenziale chiusura persino di T2, come segnalato nell'analisi weekly, andando a finire sotto questo minimo a 10.721. Bel gap down forte, non c'è stata forza per ripartire, per cui in violazione di questo minimo qua, a patto che la centratura sia corretta, però il fatto che non è semplicissima da leggere questa volta. Guardate, questa è quella che mi sento, penso sia la più corretta. Siamo arrivati a 36 barre e poi è partito il nono a T-3, vincolato a ribasso, perché ha fatto un minimo inferiore ai 10.436. Oggi siamo stati molto più prudenti, non siamo entrati in violazione, abbiamo aspettato la candela successiva, due candele verdi a rialzo, divergenza ribassista, dopo la prima candela che è andata in rottura di questo minimo siamo entrati e chi ha voluto è già uscito e si è portato a casa un piccolo gain, ma comunque un piccolo short, in una giornata che è stata estremamente laterale, che praticamente è stata entro meno di 100 tick, attorno ai 100 tick, veramente molto poco. Comunque, è sempre meglio portare a casa poco ma costantemente che farsi male senza utilizzare stop loss. Eventualmente, la possibilità che l'ottavo T-3 sia partito da qua, dalle 14, cambierebbe un attimo le cose, perché qui avrebbe chiuso a 41 e qui avrebbe fatto partire eventualmente un nuovo T-3. però, osservando come si è partiti nei due casi, propenderei appunto a mantenere questa centratura. È la mia principale, quindi me la tengo stretta e quindi mi aspetto teoricamente che domani ci sia un aggiornamento dei minimi inferiore al minimo a 10.436 e anche a 10.426 e che quindi si ritorni un pochino sotto. Poi può fare tutto quello che vuole, nel senso che qui siamo arrivati a 24 barre che è il minimo persino per un Fuzzimib, per il DAX ne bastano 22, come detto già in precedenza, ma comunque siamo poco oltre la soglia minima. E domani apriremo e vedremo come si apriasse. Apriremo sotto, valuterò poi in base a quello che vedrò, se mantenere uno short oppure chiuderlo. Con stop loss sempre inserito, eh. Attenzione, è per il fatto che siamo anche andati in death cross. E non abbiamo fatto un rimbalzo di sorta. Vi faccio vedere anche quella che è la discesa che c'è stata sul grafico a candele e da 20 minuti ecco le mediemobili. Dove siamo andati ad atterrare? Siamo andati ad atterrare su questa mediemobile rossa. E questa mediemobile rossa a che cosa è relativa? Al T più 2 di ciclo e quindi al mensile. Ecco perché, già quando vi facevo notare che se qui fossimo andati sotto un certo livello, avremmo potuto chiudere effettivamente il mensile a, qui manca la candela di oggi, sul grafico, a 30 barre. Importantissimo! Perché se poi vuole ripartire qualche cosa di nuovo, possa farlo. Anche perché, qui però, siamo arrivati a 22 barre invece che a 24. Quindi, estrema attenzione. Se non avesse chiuso qua, avrebbe potuto già chiudere qua e potrebbe fare ancora un qualche cosina. D'accordo? Anche perché, è arrivato qui giusto come chiusura. 471, sì, esatto. E' arrivato qui, ok, in questa zona qua. Ha fatto un gran bel ritracciamento rispetto alla partenza. Questo conferma però completamente quella che è la centratura. E a noi interessa ogni giorno fare operazioni che portino eventualmente a gain e rimanere, o pro trend, o comunque sfruttare le chiusure per poi utilizzare le ripartenze. Rimanere ancora meno possibile eventualmente in overnight se non siamo sicuri di come si muoverà il mercato. Passiamo al Futsimib. Futsimib, molto simile come situazione. Abbiamo avuto una probabilità di partenza di settimo T-3 qui che può aver chiuso a 28 barre anche perché se no il sesto qui non può aver chiuso a 72 quindi molto più certa la chiusura del settimo e attenzione, qui abbiamo fatto un minimo a 17.085 e qui l'abbiamo fatto a 17.074 quindi abbiamo avuto un ottavo T-3 ribassista. Vedete? Questo ampiamente servirebbe non soltanto per la chiusura appunto di un T settimanale ma anche per tutto il resto che abbiamo visto su DAX. Qui abbiamo la candela sul grafico candele giornaliere per cui possiamo già tranquillamente dare ad aggiornare la situazione forse era già aggiornata stamattina, esatto, siamo a 8 barre con un ritracciamento peraltro già interessante e ve lo faccio vedere eccoci qua siamo andati sotto il 60% di ritracciamento che non è poco dopo il movimento che c'è stato con solo le due candele siamo scesi tantissimo questo anche per il discorso che facevamo relativo al T più 2 inverso ultimissima cosa rapidissima guardate qui è vero che siamo in differita di 15 minuti ma e qui c'è un movimento rialzo del VIX quindi attenzione anche qui diamoci un'occhiata rapida se avremo una lieve discesa vi faccio vedere un altro trucchetto ed andremo a finire qui sotto e qui manterremo minimi crescenti si potrà ancora rimbalzare per salire eventualmente siamo ritornati dopo essere stati per pochissimo tempo attorno ai 30 30-31 siamo ritornati sopra i 35 e in area 37 e stiamo provando a ritornare in golden cross attenzione che qui c'è stata una bella finta finta di andare in golden cross e di tornare a salire non fatta per cui o si centrano a livello anche ciclico questo genere di movimenti oppure se si utilizzano soltanto le divergenze si fa abbastanza poco d'accordo per cui vediamo che cosa succede qui anche perché ha fatto la violazione di due swing e ha provato a fare anche la violazione del terzo swing vediamo un attimo 39-82 qui cosa ha fatto? 39-73 non l'ha violato per pochissimo per cui occhi attaccati anche al VIX stesso se l'analisi vi è piaciuta e l'avete trovata completa mettete un like sottoscrivete eventualmente il canale oppure chiedete come raggiungermi ai gruppi facebook che coordino ok? anche perché i gruppi di amici trader sono invece un'altra cosa sono fatti da persone esperte per cui sento persone esperte mi confronto eventualmente con loro dopo che ho fatto tutto quello che ho fatto durante la giornata e si fanno una bella chiacchierata sono amici per cui ecco diventa difficile entrare in determinate chat private le cose che si possono fare invece si può approfondire sicuramente e scegliere di dire caspita voglio diventare indipendente e fare anch'io la stessa identica cosa ovvero fare da solo senza andare in giro a cercare guru vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata grazie a tutti